Parliamo dell'ex raffineria Tamo e Lacremona perché dopo la condanna storica per disastro ambientale doloso ai dirigenti Gilberti e Guerrino Billi con condanne a 6 e 3 anni e per disastro ambientale colposo a Mohamed Saleh Abulaia e per Luigi Colombo la svolta della Procura Generale della Corte d'Appello di Brescia che ha impugnato la sentenza del giudice Salvini chiedendo la condanna di tutti e 5 gli imputati per il più grave reato di avvelenamento delle acque aggiungendo in concorso il reato di disastro ambientale doloso e poi il ricorso in appello dei dirigenti condannati restano aperti molti fronti in primis quello occupazionale e anche quello della bonifica Gino Ruggeri, un cittadino, si è costituito parte civile in rappresentanza della città facendo arrivare un milione di euro al comune, il comune che ora si è costituito parte civile dunque per capire quale sia la situazione attuale e per capire anche come e se possano essere utilizzati questi soldi è nostro ospite in studio Sergio Ravelli dei Radicali di Cremona Buonasera a lei e grazie, rinnovo il ringraziamento per l'opera di informazione corretta e puntuale di Telecolor su questa vicenda ma non solo Grazie, è una vicenda che è comunque piuttosto complicata qual è la fotografia del momento da diversi punti di vista? Diciamo che il metodo Tamoy l'ha ancora prevalso nel senso che Tamoy già nel 2010 con una semplice raccomandata comunicava ai sindacati di chiudere l'impianto di raffinazione quindi di cessare l'attività produttiva questa volta per il licenziamento di questi quattro operai ma anche la lettera è arrivata ha licenziato Tucura valendosi di disposizioni di legge innovative cosiddette innovative l'ha fatto quindi addirittura il metodo della Tamoy che Tamoy fa sempre quello che vuole come ritiene più opportuno seguendo il metodo della non trasparenza in questo caso stiamo parlando di un licenziamento di poche unità di operai ma che prefigurano uno stato generale di crisi dell'intero settore del cosiddetto polo logistico l'area rimanente non interessata dall'attività produttiva del deposito a varie riprese non solo come radicali ma anche nel corso del procedimento giudiziario è stato fatto presente che potrebbe essere utilmente riutilizzata portata bonificata e riutilizzata per altre attività produttivo o altri progetti che l'amministrazione comunale potrebbe anche mettere in opera questo finora non si fa e probabilmente questa segnale molto preoccupante dei primi licenziamenti possono far prefigurare quale potrebbe essere lo sviluppo delle strategie che sono nel contempo commerciali ma anche industriali della multinazionale sempre libica Tamoil su il destino di questo deposito resterà, resterà alla Tamoil, verrà venduto a qualche altro compratore e se verrà comperato chi si farà carico della bonifica del sito? questa è la grande incognita sono tanti appunto i punti interrogativi ancora aperti e quindi a cui si deve trovare risposta come dicevamo un cittadino, Gino Ruggeri, costituendosi parte civile inizialmente ha permesso al Comune di incassare un milione di euro questo milione di euro potrebbe essere utilizzato visti i vari fronti aperti e le preoccupazioni sempre alte che ci sono? innanzitutto bisogna dire che questo milione di euro che il Comune ha incassato è a destinazione vincolata sulla questione ambientale prodotta dall'inquinamento Tamoil attualmente è stato correttamente inserito in conto capitale nel bilancio del Comune e non potrà essere utilizzato per nessun progetto che ancora sono comunque da elaborare in quanto deve intervenire ancora la sentenza di appello e si preannuncia, su questo poi due parole le spenderemo prossimamente nei prossimi mesi si aprirà a Brescia la Corte d'Appello il processo di appello quindi ci sarà una sentenza di appello probabilmente ci sarà la sentenza di cassazione definitiva a quel punto il Comune potrà concretamente utilizzare questo milione di euro che noi speriamo con il processo d'appello e con l'aggravamento dei reati proposti dalla Procura Generale e dalla Corte d'Appello di poter incrementare e stiamo parlando solo di risarcimenti provvisionali in termini di processo penale ma la parte risarcitoria vera e completa dovrebbe essere definita in sede civile quindi c'è anche questo aspetto che potrebbe poi ampliarsi l'entità del risarcimento come noi speriamo, uspichiamo e lotteremo per ottenere molto ma molto di più perché il danno ambientale non è certamente il milione di euro il danno ambientale è stimato per i studi di settore l'inquinamento dell'area enorme, della TAMOE e delle parti esterne siamo nell'ordine di decine e decine alcuni prefigurano 80-100 milioni di euro di costi di bonifica integrale quindi dovremmo aspettare quali tempi? le notizie che abbiamo noi che sono fresche le posso annunciare perché i nostri illegali e questo bisogna dare atto al Comune che il Comune di Cremona non solo si è costituito particibile quindi prenderà il posto di Gino Ruggeri ma il Comune ha deciso di avvalersi dalla competenza e dalla professionalità degli avvocati che già avevano utilizzato avevano operato in sede di processo di primo grado le notizie che ci sono pervenuti che la Corte di Appello sta emettendo le comunicazioni di convocazione dalla prima udienza si sa che il processo si svolgerà presso la prima sezione della Corte di Appello di Brescia e la prima udienza dovrebbe tenersi nelle prime settimane di dicembre il processo si svolgerà con le stesse modalità del processo di primo grado quindi sarà un processo a rito abbreviato quindi i tempi saranno fortemente ridotti rispetto ai due anni e mezzo del primo grado perché non ci sarà più l'approfondimento peritale questo è un dato molto favorevole che si andrà quindi abbastanza velocemente il dato forse per noi attenti che questo appuntamento sia anche un'occasione di approfondimento e di comunicazione all'opinione pubblica perché si faccia una ragione possa conoscere quello che si sta decidendo in sede anche processuale il rito abbreviato purtroppo prevede l'aula chiusa quindi il non accesso né agli operatori dell'informazione e men che meno ai cittadini normali fortunatamente sia il sottoscritto come parte civile soci delle canottieri che il comune con gli avvocati radicali saranno presenti e quindi cercheranno di garantire il massimo della trasparenza e dell'informazione certo, noi naturalmente continueremo a seguire la vicenda sperando che ci siano sviluppi al più presto ringraziamo dunque Sergio Ravelli dei Radicali di Cremona per essere stato con noi, grazie grazie a voi